Il basket giovanile mantovano rischia di scomparire. A denunciarlo il presidente del San Pio X, Diego Cavalli, che proprio in questi giorni ha ricevuto le lettere della Federazione Italiana Pallacanestro, che provvederà a controllare l'idoneità delle palestre mantovane. In caso di esito negativo, una sola risposta. Fine delle gare ufficiali e fine dell'attività agonistica. Il problema si trascina da anni. Nel 2011 il Comune si era preso l'impegno di fare i lavori. A tutt'oggi sono arrivate giustamente le lettere della Federazione Italiana Pallacanestro, nel quale ci dice, entro il 30 marzo fatici vedere i lavori che avete fatto. E i lavori che sono stati fatti, cioè non è stato fatto nessun lavoro. A contorno della situazione un contributo di 500 euro che è arrivato alla società sportiva per proseguire l'attività. Un sostegno che oggi sembra quasi una beffa, visto che a consegnarlo è la stessa federazione, grazie al protocollo d'intesa tra coni Lombardia e Regione, ma che forse, viste le condizioni dei campi di via Giulio Romano, via Dugoni e di via Luzio, non potranno essere utilizzati. A farne le spese oltre 300 ragazzi. Tutti i nostri atleti sono tesserati FIP e la FIP fa parte del CONI. Abbiamo 236 bambini nel mini basket e 80 ragazzi che fanno il settore giovanile della società. Per cui andiamo dall'under 17 fino all'under 13. E anche di questi problemi se ne occuperà un club in via di Costituzione, affiliato al Comitato Olimpico. Questo club, il Panathlon, avrà come finalità il rispetto delle regole, la lotta al doping, il rispetto dell'etica sportiva, ma anche la sicurezza. L'obiettivo del Panathlon è anche quello di porre il dito, fare un pochettino d'anima critica per quello che riguarda il discorso della sicurezza degli impianti sportivi. L'importante è che i nostri figli, cioè i bambini, i ragazzi, vadano in impianti sicuri dove tutte le regole del buonsenso, ma che sono comunque codificate, vengono rispettate.